Il Centro in Forma Giovani del Comune di Agropoli, con la dottoressa Anna Novello e gli studenti della IVA dell'Istituto di Istruzione Superiore Vico De Vivo, coordinata dalla tutor professoressa Giuseppina Casazza, nell'ambito del progetto di alternanza scuola-lavoro, sta realizzando un percorso che si pone in linea con le attività già svolte, presso lo stesso ufficio nel precedente anno scolastico. In questo secondo anno di attività i giovani studenti sono impegnati nella realizzazione di un progetto, che prevede la costituzione simulata di una società SRL che propone l'alfabetizzazione digitale rivolta ai cittadini over, come obiettivo quello di insegnare alle categorie cosiddette over, le competenze di base per usare un programma di videoscrittura, usare internet, gestire la posta elettronica, oltre a nozioni per l'utilizzo di fogli di calcolo come Excel, creare immagini, disegni, biglietti augurali con programmi di creazione basic come Paint, realizzare delle presentazioni audio-video con PowerPoint, oltre a favorire la comunicazione con il resto del mondo, con familiari ed amici lontani, utilizzando strumenti come Skype, WhatsApp, per effettuare videochiamate. Per tutti i lettori over che hanno il piacere di mettersi in gioco e vogliono lasciarsi guidare in questa avventura, possono rivolgersi al Centro Informa Giovani del Comune di Agropoli, sito in via Pisacane, chiamando al numero 0974 82 2999, oppure all'Istituto di Istruzione Superiore Vico di Vivo, in via Nitti, telefonando allo 0974 82 2576.